Grazie Grazie Ancora si vede l'impronta Ma ascolta Se sta grasso Ci raccomando Non ce l'ho Ministra io posso provocare da 50 e 500 Si Non sa di Non ci ha 50 da cambiare Perchè Poi le cose Antonio Perchè 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 Non è vergogna oggi Non è vergogna Ringrazio Dio A fondo ringraziamo il Signore Però se l'abbiamo Non è vergogna Non so chi si vergogna Ci potremmo fare Non è vergogna Il nostro Il tossone Il tossone Il mio ampio con l'antipiode Il mio ampio con l'antipiode Non è vergogna Se le sei conto Echè Perchè Cosa